Il mistero e il segretario dietro l'ipnosi non verbale e il messaggio I risultati dei miei risultati Per voi, per il vostro sviluppo personale Per la tua vita E per diventare un professionale Con i risultati più alti Adesso faremo un piccolo esercizio È molto semplice Piamata Piamata Esercizio per provare un'esperienza di trans Magari maggiore compitenza Più energia E più forza D'accordo? Possiamo vedere anche le sue reazioni Io tra l'altro vedo le sue reazioni Perché mentre mi avvicino Osservo se lei accetta O rifiuta E poi sei perché accetti? Accetto Ok, andiamo dentro Un po' Perfetto Vedi che dal 100% In quadra In quadra Veramente Un po' Un po' Ok Una cosa Perfetto Anche qua Sì? Perfetto Fissami Grazie a tutti. 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 on our videos. e...